Uiii Mizzica! Mamma mia! Guardate ragazzi oggi mi trovo dove c'è l'ospedaletto della frutta qua e c'è il nostro amico che si sta dando da fare con questo aggeggio stiamo facendo delle pulizie dai che ci vuole per il paese perché deve venire il presidente capo dello stato Mattarella perciò noi facciamo le pulizie dopo facciamo un volo a turno quando lui smette di attacco io perciò guidatevi dobbiamo dare una mano anche a un paesino come questo qua Santa Margherita una mano di pulizia guardate che bello il nostro paesino guarda il nostro collega vi faccio vedere chi è è io ho visto la foto